di luigi pirandello le sorprese della scienza voce di lorenzo pieri seconda parte la mastra sala la sala del consiglio rischiarata da altri illumini a cui quelli della scala avevano ben poco da invidiare pareva un'aula di pretura delle più sudice e polverose i banchi dei consiglieri e le poltrone di cuoio erano della più venerabile antichità ma a considerarli bene nelle loro relazioni con quelli che tra poco avrebbero preso posto in essi e che ora passeggiavano per la sala assorti taciturni ispidi come tantico comerelli selvatici pronti a schizzare ad un minimo urto il loro sugo purgativo pareva che non per gli anni si fossero logorati così ma per la cura cupamente austera del pubblico bene per i pensieri roditori che in loro naturalmente erano divenuti tarli tucci mi mostrò e mi nominò a dito i consiglieri più autorevoli l'ansarti tra i giovani rivale dello zagardi tozzo e barbuto anche lui ma bruno il colacci vecchio gigantesco calvo sbarbato dalla pinguedine floscia il magonza bell'uomo militarmente impostato che guardava tutti con rigidezza sdegnosa ma ecco ecco il sindaco in ritardo quello sì anselmo placci tondo biondo rubicondo quel sindaco stonava non stona vedrai mi disse tucci è il sindaco che ci vuole nessuno lo salutava solo il colacci gigantesco gli s'accostò per battergli forte la mano sulla spalla e gli sorrise corse a prendere posto sul suo seggio asciugandosi il sudore e suonò il campanello mentre il capo usciere gli porgeva la nota dei consiglieri presenti non mancava nessuno il segretario senza aspettare l'ordine aveva preso a leggere il verbale della seduta precedente che doveva essere redatto con la più scrupolosa diligenza perché i consiglieri che lo ascoltavano accigliati approvavano di tratto in tratto col capo e infine non trovarono nulla da ridire prestai ascolto anch'io a quel verbale volgendomi ogni tanto smarrito e sgomento a guardare l'amico tucci a proposito delle strade di milocca si parlava come niente di londra di parigi di berlino di new york di chicago in quel verbale e saltavano fuori nomi di illustri scienziati d'ogni nazione e calcoli complicatissimi e astrusissime disquisizioni per cui i capelli del magro pallido segretario mi pareva si ritraessero verso la nuca man mano che gli leggeva e che la fronte gli crescesse mostruosamente intanto due o tre uscieri zitti zitti in punta di piedi recavano a questo a quel banco pile enormi di libri e grossi incartamenti nessuno ha da fare osservazione al verbale domandò alla fine il sindaco stropicciandosi le mani paffutelle e guardando in giro allora si intende approvato l'ordine del giorno reca discussione del progetto presentato dalla giunta per un impianto idrotermo elettrico del comune di milocca signori consiglieri voi conoscete già questo progetto e avete avuto tutto il tempo di esaminarlo e di studiarlo in ogni sua parte prima di aprire la discussione consentite che io anche a nome dei colleghi della giunta dichiari che noi abbiamo fatto di tutto per risolvere nel minor tempo e nel modo che ci è sembrato più conveniente sia per il decoro e per il vantaggio del paese sia rispetto alle condizioni economiche del nostro comune il gravissimo problema dell'illuminazione aspettiamo dunque fiduciosi e sereni il vostro giudizio che sarà equo certamente e vi promettiamo fin d'ora che accoglieremo ben volentieri tutti quei consigli tutte quelle modificazioni che a voi piacerà di proporre ispirandovi come noi al bene e alla prosperità del nostro paese nessun segno d'approvazione e si levò prima a parlare il consigliere maganza quello dall'impostura militaresca premise che sarebbe stato brevissimo al solito suo tanto più che per distruggere e atterrare quel fantastico edificio di carta pesta che era il progetto della giunta poche parole sarebbero bastate poche parole e qualche cifra e punto per punto il consigliere maganza si mise a criticare il progetto con straordinaria lucidità di idee e parola acuta incisiva il complesso dei lavori e delle spese la sanzione che si doveva dare per l'acquisto della concessione dell'acqua di chiarenza i rischi grandissimi a cui sarebbe andato incontro il municipio il rischio della costruzione il rischio dell'esercizio l'insufficienza della somma preventivata che saltava agli occhi di tutti coloro che avevano fatto impianti meccanici e sapevano come fosse impossibile contenere le spese nei limiti dei preventivi specialmente quando questi preventivi erano fatti sopra progetti di massima e con l'evidente proposito di fare apparire piccola la spesa il carattere impegnativo che aveva l'offerta dell'accollatario fermi restando i dati sui quali l'offerta medesima era fondata dati che per forza il consiglio avrebbe dovuto alterare con varianti e aggiunte ai lavori idraulici con varianti e aggiunte agli impianti meccanici e ciò oltre a tutti i casi imprevisti e imprevedibili di forza maggiore e a tutte le accidentalità incagli intoppi che certamente non sarebbero mancati come poi fare appunti particolareggiati senza avere a disposizione i disegni d'esecuzione e i dati necessari eppure due enormi lacune apparivano già evidentissime nel progetto nessuna somma per le spese generali mentre ognuno comprendeva che non si potevano eseguire lavori così grandiosi così estesi così vari e delicati senza gravi spese di direzione di sorveglianza e spese legali e amministrative e l'altra lacuna ben più vasta e profonda la riserva termica che in principio la giunta sosteneva non necessaria e che poi finalmente ammetteva e qui il consigliere maganza con l'aiuto dei libri che gli avevano recato gli uscieri si sprofondò in una intricatissima minuziosa confutazione scientifica parlando della forza dei torrenti e delle cascate e di prese e di canali e di condotte forzate e di macchinari e di condotte elettriche e delle relazioni da stabilire tra riserva termica e forza idraulica oltre la riserva degli accumulatori citando la società Edison di Milano e l'alta Italia di Torino e ciò che per simili impianti sarà fatto a Vienna a Pietroburgo a Berlino erano passate circa due ore e il brevissimo discorso non accennava ancora di finire il pubblico stipato pendeva dalle labbra dell'oratore per nulla oppresso da tanta copia dirta spaventevole erudizione io quasi non tiravo più fiato eppure lo stupore mi teneva lì con gli occhi sbarrati a bocca aperta ma alla fine il maganza mentre il pubblico s'agitava non già per sollievo anzi per viva ammirazione concluse così la dura esperienza in altre città o signori ha purtroppo dimostrato che gli impianti idrotermo elettrici sono della massima difficoltà e servano dolorosissime sorprese nessuno può far miracoli e tanto meno sulla base d'un così fatto progetto potrà farne il municipio di Milocca scoppiarono frenetici applausi e il consigliere Ansatti si precipitò dal suo banco ad abbracciare e baciare il maganza poi rivolto al pubblico e ritornando man mano al suo posto prese a gridare tutto infocato con violenti gesti si osa proporre oggi o signori oggi oggi come se noi ci trovassimo dieci o venti anni addietro al tempo di Galileo Ferraris si osa proporre un impianto idrotermo elettrico a Milocca a come mi metterei a ridere se potesse parermi uno scherzo ma coi denari dei contribuenti o signori della giunta non è lecito scherzare e io non rido io mi infiammo anzi di sdegno un impianto idrotermo elettrico a Milocca quando già spunta sull'orizzonte scientifico la gloria consacrata di Pictet non vi farò il torto di credere o signori che voi ignoriate chi sia l'illustre professor Pictet colui che con un processo di produzione economica dell'ossigeno industriale prepara una memoranda rivoluzione nel mondo della scienza della tecnica e dell'industria una rivoluzione che sconvolgerà tutto il macchinismo della vita moderna sostituendo questo nuovo elemento di luce e di calore a tutti quelli di potenza molto minore che finora sono in uso e con questo tono e con crescente fuoco il consigliere Ansatti spiegò al pubblico attonito e affascinato la scoperta del Pictet e come col sistema da lui inventato le fiamme delle reticelle Auer sarebbero arrivate alle altissime temperature di 3000 gradi aumentando di ben 20 volte la loro luminosità e come la luce così ottenuta sarebbe stata differenza di tutte le altre molto simile a quella solare e che se poi al posto del gas si fosse messa un'altra miscela derivante da un trattamento del carbon fossile col vapore acqueo e l'ossigeno industriale il potere calorifico sarebbe aumentato di altre sei volte mentre egli spiegava questi prodigi il consigliere Zagardi suo rivale quello che mi aveva compianto per la scala sogghignava sotto sotto. L'Ansatti se ne accorse e gli gridò c'è poco da sogghignare collega Zagardi dico e sostengo di altre sei volte ci ho qui i libri te lo dimostrerò e glielo dimostrò difatti e alla fine balzando da quella terribile dimostrazione più vivo e più infocato di prima concluse rivolto alla giunta. Ora in quali condizioni o ciechi amministratori in quali condizioni di inferiorità si troverebbero il municipio e il paese di Milocca coi loro miserabili mille cavalli di forza elettrica quando questo enorme rivolgimento sarà nell'industria e nella vita un fatto compiuto? Scusami, dissi io piano all'amico Tucci mentre gli applausi scrosciavano nella sala con tale impeto che il tetto pareva ne dovesse subissare levami un dubbio non è intanto al buio il paese di Milocca? Matucci non volle rispondermi zitto zitto ecco che parla Zagardi sta a sentire il tozzo macciotto barbuto s'era infatti levato col sogghigno ancora sulle labbra torcendosi sul mento con gesto dispettoso il rosso pelo ricciuto ho sogghignato disse e sogghigno collega Ansatti nel vederti così tutto fiammante d'ossigeno industriale paladino caloroso del professor Pictet ho sogghignato e sogghigno collega Ansatti non tanto di sdegno quanto di dolore nel vedere come tu così accorto tu giovane vigile bracco della scienza ti sia fermato alla nuova scoperta di quel professor francese e abbagliato dalla luce venti volte cresciuta delle reticelle Auer non abbia veduto un più recente sistema di illuminazione che il municipio di Parigi va sperimentando per farne poi l'applicazione generale nella villumiere io dico il lus sol collega Ansatti e non i scioglierò in gloria della nuova scoperta perché non con gli inni si fanno le rivoluzioni nel campo della scienza della tecnica e dell'industria ma con calcoli riposati e rigorosi e qui lo zagardi non smettendo mai di tormentarsi sul mento la barbetta rossigna piano piano col suo fare mordace e dispettoso parlò della semplicità meravigliosa delle lampade all'us sol nelle quali il calore di combustione dello stoppino e la capillarità bastavano a determinare senza alcun meccanismo l'ascesa del liquido illuminante la sua vaporizzazione la sua mescolanza alla forte proporzione d'aria che rendeva la fiamma più viva e sfavillante di quella ottenuta con qualunque altro sistema e per un miserabilissimo centesimo si sarebbe ormai avuta la stessa luce che si aveva a 4 o 5 centesimi col vile petrolio a 8 o 10 con l'ambiziosa elettricità a 15 o 20 col pacifico olio e il lus sol non richiedeva né costruzioni di officine né impianti né canalizzazioni non aveva egli dunque ragione di soggignare o fosse per la tempesta suscitata nella poca aria della sala dalle deliranti acclamazioni e dai battimani del pubblico o fosse per mancanza d'alimento essendosi la seduta già protratta oltre ogni previsione il fatto è che alla fine del discorso dello zagardi i lumi si abbassarono di tanto che si era quasi al buio quando sorse per ultimo a parlare il colacci il vecchio gigantesco dalla pinguedine floscia ma ecco prima un usciere poi un altro e poi un terzo entrarono come fantasmi nell'aula reggendo ciascuno una candela stearica l'aspettazione del pubblico era intensa indimenticabile la scena che offriva quella tetra sala affollata nella semi oscurità con quelle tre candele accese presso il vecchio gigantesco che con ampi gesti e voce tonante magnificava la scienza feconda madre di luce inestinguibile produttrice inesauribile di sempre nuove energie e di più splendida vita dopo le scoperte mirabili di cui avevano parlato l'ansatti e lo zagardi era più possibile sostenere l'impianto idrotermo elettrico proposto dalla giunta che figura avrebbe fatto il paese di milocca illuminato soltanto a luce elettrica questo era il tempo delle grandi scoperte e ogni amministrazione che avesse veramente a cuore il decoro del paese e il bene dei cittadini doveva stare in guardia dalle sorprese continue della scienza il consigliere colacci pertanto sicuro di interpretare i voti del buon popolo milocchese e di tutti i colleghi consiglieri proponeva la sospensiva sul progetto della giunta in vista dei nuovi studi e delle nuove scoperte che avrebbero finalmente dato luce al paese di milocca hai capito mi domandò tucci uscendo poco dopo nelle tenebre dello spiazzo sterposo innanzi al municipio e così per l'acqua e così per le strade e così per tutto da una ventina d'anni il colacci si alza ad ogni fine di seduta per inneggiare alla scienza per inneggiare alla luce mentre i lumi si spengono e propone la sospensiva su ogni progetto in vista di nuovi studi e di nuove scoperte così noi siamo salvi amico mio tu puoi star sicuro che la scienza a milocca non entrerà mai hai una scatola di fiammiferi cavala fuori e fatti lume da te